Con il Movimento 5 Stelle le distanze sono ancora innumerevoli, è sul reddito di cittadinanza, sull'assistenzialismo, sulle visioni del futuro del paese, io vedo molte più distanze con il Movimento 5 Stelle che ad esempio con il PD, sul giustizialismo. Ecco, una cosa è dire che c'è un'emergenza, tiriamo fuori l'Italia dalle sabbie mobili, evitiamo che arrivi un Presidente della Repubblica a no euro o che ci sia una gestione alla Bolsonaro, su queste cose noi diamo una mano. Pensare che io mi fidanzi in casa con Di Battista? Anche no, grazie.